allora ciao amici d'andrea sempre più spesso mi state chiedendo che cosa uso io per organizzare i concorsi su facebook oggi volevo presentarvi tre soluzioni che io uso tutte e tre indistintamente poi vi dirò quali sono le mie preferite per fare cosa perché ognuna ha una propria soluzione migliore rispetto all'altra vi dico già subito anche qual è la mia preferita la mia preferita è page mode per due motivi primo perché è completamente in italiano a differenza delle altre due ma è poi anche abbastanza semplice e vi offre la possibilità di realizzare splendidi copertine per le vostre le vostre file page e in ogni caso ha una profilo anche gratis tutti quanti hanno un profilo gratis chi più chi meno può decidere di poterlo usare provarlo e poi decidere l'acquisto acquistate dal mio link qui in basso così che possiate ricevere gratis i miei video esplicativi per l'utilizzo di questi tre tre software partiamo dal primo easy promos è soltanto in spagnolo l'inglese permette di fare tantissime tantissime procedure sia per facebook che per twitter foto contest video contest hashtag contest quiz e sondaggi scelte multiple vicitori istantanee codici promozionali coupon per pinterest insomma tante 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 soluzioni e in ogni caso poi analizzeremo nel dettaglio chi si scrive chi lascia la propria email nel modulo qui sotto riceveranno nel dettaglio dei video esplicativi passiamo alla soluzione invece sweepstake app è completamente in tedesco quindi è difficilmente comprensibile naturalmente chi si iscrive sempre ripeto dal modulo qui in basso riceve i miei video gratis e questo lo stesso si può utilizzare per fare delle altre degli altri contest e delle altre sempre per la mia preferita e page mode e in italiano permette delle soluzioni anche queste gratis chi si iscrive sempre dal dal mio link riceverà anche per questo dei o gratti e i carrivi per l'utilizzo questa attivamente una cosa che si possono realizzare quindi lasciate il vostro link qui sotto e la vostra email qui sotto e per iscrivermi sia sweepstake che page mode che sweepstake app mi raccomando utilizzate il mio link affiliazione di modo che potrete ricevere gratis i video che io ho preparato per voi ciao da andrea ricordati di lasciare la tua email qui sotto e se ti devi iscrivere usa il mio link affiliato per ricevere i video ciao 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 ciao